Alla scusa, volevo dire a Verdino che sta iniziando, come stavo su? Scusa Carla, buca Alla scusa, come si fa il blocco? Chiedi di telefonare a Luizino Dammi dai, porca miseria, non mi perdo proprio la partita finale Tu resta iniziato a testo, non mi perdo proprio le bambino L'argomento... ...L'argomento... ...Vaci a tenere! Occhio! 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 Xun alma! Aargghh! 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 Occhio! senti corrado perde la volta la 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 Vieni la camera, basta, basta, basta. Vai, vai, bravo. Vai, vai, Giorgio. Gigi. Uh, fatela girare di più. Vai, persa. Dieci. Dieci metri. Vai, vai, vai. Occhio dietro. Vai, Davide, vai. Grazie. Bravo, Davide. Vai, Davide. Bravo, Davide. Bravo, Davide. Bravo. Grazie. 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 Svegliavano! Sì, tieni la vecchia alla che non mi arrivi dal cavalletto. Sì, tieni la vecchia alla che non mi arrivi dal cavalletto. Sì, tieni la vecchia alla che non mi arrivi dal cavalletto. Sì, tieni la vecchia alla che non mi arrivi dal cavalletto. Sì, tieni la vecchia alla che non mi arrivi dal cavalletto. Sì, tieni la vecchia alla che non mi arrivi dal cavalletto. Sì, tieni la vecchia alla che non mi arrivi dal cavalletto. Sì, tieni la vecchia alla che non mi arrivi dal cavalletto. Sì, tieni la vecchia alla che non mi arrivi dal cavalletto. Sì, tieni la vecchia alla che non mi arrivi dal cavalletto. Sì, tieni la vecchia alla che non mi arrivi dal cavalletto. Sì, tieni la vecchia alla che non mi arrivi dal cavalletto. Sì, tieni la vecchia alla che non mi arrivi dal cavalletto. Sì, tieni la vecchia alla che non mi arrivi dal cavalletto. Grazie Se c'era Se c'era c'era Su, su, su Vai Vai Ragazzi Vai Davide Vai 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 Grande Davide Grande Bravo Davide Bravo Mamma mia Bravo 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 Davide Bravo 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 Ma è finita? Fischiato? Deve fare la trasmissione Ah si si che schiena La prende 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 E' che ha iniziato perché hai preso il tempo Andrea Guarda Tredici minuti Tredici minuti Tredici minuti Tredici minuti Te l'ho Un brunch Qu'è un Ann pół Tredici minacci Tredici a